Percorsi del benessere, un'iniziativa importante per valorizzare il territorio vietrese? Non è solo un'iniziativa importante per la valorizzazione e la promozione del territorio vietrese. È praticamente un'iniziativa a tutela dell'ambiente, a tutela del paesaggio, benessere e anche a tutela della situazione fisica di ognuno di noi. Perché la passeggiata tra i monti o le campagne o comunque in zone alberate con una bella vista panoramica sul mare, ovviamente, certamente farà bene sia allo spirito ed sarà certamente salubre per coloro che praticamente parteciperanno a questa iniziativa. Ma non fosse altro perché non è un'iniziativa agonistica, quindi io non me la sento. E noi abbiamo invitato un po' tutte le famiglie con i figli per abituati a godere, a gustare sia il panorama, sia l'aria, sia il paesaggio e sia quegli angolini un poco suggestivi che a vietri abbiamo, come dire, la possibilità di esporre ai vari turisti o avventori in cenere. E quindi siamo alla terza edizione, abbiamo un incremento continuo e costante ogni anno, ogni edizione. Abbiamo in mente di organizzare poi, come dire, delle sottopasseggiate, se le possiamo chiamare così. Cioè nel senso di arrivare ad organizzare una settimana con la localizzazione di ogni frazione di manifestazioni in tal senso. Oltre a quella che è l'iniziativa generale che praticamente faremo comunque per tutto il territorio nella sua interezza a livello comunale. Abbiamo, lo sanno tutti, una situazione orografica e territoriale un poco particolare con sette frazioni dislocate nei vari punti. Quindi collegandole con questo percorso abbiamo la possibilità di attraversare tutto il territorio vietrise. C'è stato anche un grosso interesse da parte delle associazioni che ringraziamo, da parte di imprenditori che ringraziamo, da parte di ristoratori che ringraziamo. Bar, ristorante, rossiccerie hanno partecipato in massa proprio per esporre non solamente il territorio, ma esporre anche la capacità professionale di ogni struttura ricettiva. Perché poi i due settori portanti del comune, del territorio vietrise, sono sempre la ceramica e il turismo. Questo è turismo che deve essere di supporto alla ceramica. Come partiranno i percorsi del benessere? Di cosa si tratta? Allora, è una straordinaria manifestazione nata due anni fa, grazie all'idea del precedente assessore, mio predecessore è l'assessore Luigi Gorga, assessore all'ambiente e che ha avuto un grosso successo in questi due anni. Quindi una manifestazione è cresciuta di anno in anno. Abbiamo deciso quindi di organizzare, come assessorato all'ambiente e l'amministrazione comunale, la terza edizione dei percorsi del benessere. Una manifestazione dedicata alla promozione e valorizzazione di quello che è lo straordinario territorio vietrese, ricco di bellezze paesaggistiche e naturalistiche. Quest'anno il programma si articola in due giornate e prevede sia le passeggiate del benessere lungo i sentieri vietresi e che toccheranno tutte quelle che sono le bellezze delle nostre frazioni, sia quelle collinare sia quelle marine, come Marina di Vietre sul mare. Quest'anno, oltre alle passeggiate del benessere, abbiamo previsto il benessere in festa. Cioè la serata del 26 ottobre sarà dedicata al benessere inteso in tutte le sue declinazioni. Quindi offriremo percorsi musicali grazie agli interventi musicali dei viatolini e dei musicastori, che sono i gruppi musicali del nostro territorio. Percorsi culturali grazie ad una rappresentazione teatrale messa in scena da un giovane regista vietrese Claudio Collano e poi percorsi gastronomici con i nostri locali, i nostri ristoranti, i nostri bar, che faranno dei menù a tema. Quindi è una manifestazione che quest'anno si propone di ospitare un bel numero di turisti e di visitatori e che ci auguriamo possa crescere sempre di più. Lega Ambiente collabora a quest'edizione dei percorsi del benessere per valorizzare il territorio vietilise. In cosa conti? Sì, percorsi del benessere appunto è la terza edizione. Anche quest'anno aderiamo all'iniziativa, sosteniamo per quello che possiamo anche come partner scientifico perché appunto abbiamo indicato anche dei luoghi insieme al Comune, in particolare al Consigliere Mario Pagano che appunto è delegato per questa iniziativa da parte del Comune proprio perché crediamo che il territorio vietilise ha delle bellissime ricchezze, diciamo, non solo paesaggistiche ma anche monumentali, quindi storiche, quindi i percorsi che ci saranno in questi giorni, quindi nel prossimo fine settimana saranno sicuramente importanti per far flurire in modo sostenibile. Quindi ecco perché noi ricordiamo sempre il turismo sostenibile che è una forma di turismo che noi sosteniamo e che amiamo proporre, appunto riuscire ad aggregare persone a piedi con dei percorsi anche fattibili ma anche un po' per tutti, sicuramente è un'ottima occasione di promozione del territorio e anche di conoscenza per i stessi abitanti.